ciao a tutti ragazzi da falco e the knife partiamo subito ma mi raccomando prima prima di partire ricordo di cliccare in basso a destra supporto un creatore e utilizzare il nostro falco game nella casetta qui scrivete falco game e accettate e quindi ci date una mano a portare avanti il nostro canale ok vediamo il negozio di oggi negozio oggetti di gennaio 11 di gennaio 2021 ubicata standard do andiamo a vedere personalizza il tuo aspetto scegliendo uno standard è un colore del tuo armadietto fa parte dei set brigata standard prima parazione stagione numero 9 bella ragazzi facciamo uno zoom vediamo un po con il cuorecino bella vediamo al prossimo con il cappellino abbiamo il cappellino andiamo avanti poi brigadiere brando ecco possiamo dire che abbiamo milite standardo ecco varie variazioni del brigadiere brand bella bella questo mi piace ho sempre 800 WBAC sono delle skin da 800 WBAC scegliendo il sigillo personalizza il tuo aspetto questo si è sempre diciamo le varie variazioni delle di questo standardo mastino marchiato bella 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 poi abbiamo sostenitore simbolo posso fare anche un zoom bello poi abbiamo logo lt bella mi piace la fascia sul braccio si 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 poi abbiamo cecchino di classe niente male direi che sono molto molto semplici ma però bellini fatti bene allora poi abbiamo lo scudo standardo mantello bello 400 euro che è questa qui bella effettivamente ci sta su quella tutta bianco sulla mia skin attuale vabbè andiamo avanti scudo standardo niente male poi abbiamo ehm emblematico diciamo il piccone poi wow sbandieratore fa vedere chi sei prima apparezione capitolo 2 stagione 1 bello bello vediamo poi lo standardo mossa il tuo stile fa parte del set brigata standardo prima apparezione capitolo 2 stagione ecco qua bello poi cosa abbiamo incrociatore personalizzato tutta tema di questo fucsia con il cuoricino bianco bellino c'è un cucino cento back poi pre pre doni contrassegnato questo mi sa che l'abbiamo fatto e stiamo iniziando dal capo si ragazzi stiamo iniziando dal capo torniamo indietro abbiamo visto il brigata standardo ok ovviamente cambiano le magliette ok vediamo questa a no scusate scusate militi standardo sempre continuo continua quindi no è lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso scusate usato c'è il crimine classe andiamo avanti vediamo cosa abbiamo qui giornalieri abbiamo un bello e di papa fa parte del set rodeo lama prima apparezione stagione 6 questo è fantastico questa cosa qui è fantastica sembra proprio addosso al lama costume epico ragazzi 1500 vbac poi abbiamo bacchetta stella 800 vbac punta le stelle prima apparezione stagione 8 vediamo questa non comune costume comando costume comando non comune 800 vbac niente male mi gusta mi gusta mi piace queste skin turbine di fuoco riscaldiamolo prima apparizione stagione 8 800 vbac bella bellissimo queste sono delle movenze ragazzi trovate nelle feste andiamo avanti racchetta reale 200 vbac batti e ribatti prima apparizione capitolo 2 stagione 3 calcio al tappo dacci un calcio prima apparizione capitolo 2 stagione 1 200 vbac questo abbiamo visto mai poi cosa abbiamo niente poi questo c'era già questo c'era già questo c'era già quindi ragazzi cosa abbiamo la brigata estendato per aver fatto ben visto tutto abbiamo visto tutto si 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 ok siamo alla fine ragazzi comando tutto abbiamo visto tutto ragazzi mi raccomando ragazzi se volete supportarci basta adesso cliccate sul pulsante e usate il nostro codice falco game ragazzi questo è lo shop dell'11 gennaio 2021 ciao a tutti alla prossima ciao